Ciao a tutti cari ascoltatori meteo, bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a vedere la situazione meteorologica per i prossimi giorni, perché sembra che qualcosa potrebbe cambiare. Come ci dice anche il moderno, già nella giornata di oggi, nuovi temporali, si sono andati a creare sul lungo la dorsaria appenninica. Nei prossimi giorni, il giorno più interessante potrebbe essere a partire dalla serata di domani sera, quando un afflusso di rai più umida andrebbe a creare precipitazioni localmente anche abbondanti su buona parte del nord. Come possiamo vedere le regioni più coinvolte sarebbero tutte quelle centrosettentrionali, possibili precipitazioni ci potrebbero anche trovarsi sulla Toscana e sulla Liguria. Le precipitazioni comunque, come ho già detto, le più abbondanti si troverebbero tra il Piemonte, il Veneto, il Trentino e il Friuli. Possibili precipitazioni poi nella giornata del 30, soprattutto nella serata, che ci sia qualche infiltrazione anche per quanto riguarda le aree del centro-sud, l'alto Adriatico, dove c'è la speranza che possa tornare un po' di pioggia. Come possiamo vedere anche dalle seguenti immagini. Questo, come ho già detto, dovrebbe iniziare a verificarsi dalla serata di domani sera e svilupparsi almeno fino alla giornata del 30. Sarà un passaggio di pioggia veramente molto rapido, però sempre meglio che stare a queste temperature. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo ancora di iscrivervi al canale, lasciando un like e attivare la campanellina. Non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.